Il gol con cui Bacca riapre la partita all'ottavo minuto 2 a 1 la prima vera palla gol del Milan concretizzata dal Colombiano Sì ma c'è stato il movimento di Kuzka senza palla l'hanno pescato dentro l'area di rigore al limite, colpo di testa poi bacca dentro l'area, lui si muove come ho detto all'inizio, come se fosse a casa sua le palle vaganti, lui c'è l'indirizzo subito, vede la porta come ai pochi è in fase di costruzione, cade le mancanze ma dentro l'area di rigore è devastante